Parliamo della settimana dell'allattamento, come è andata? Allora, la settimana dell'allattamento è iniziata domenica con una tavola rotonda molto partecipata sul tema dell'allattamento e lavoro, che è il tema specifico che quest'anno il MAMI ha deciso di affrontare nella settimana dell'allattamento. Abbiamo discusso insieme alle mamme, alle professioniste, ai sindacati di quelle che sono attualmente le misure che permettono la conciliazione dell'allattamento e del lavoro e abbiamo parlato ovviamente delle difficoltà che questo momento rappresenta per le mamme, il rientro al lavoro, come conciliare questo con il proprio ruolo, con la propria identità sociale e personale. Quindi è stato un bel avvio della settimana. La settimana prosegue, dall'1 al 7 di ottobre abbiamo previsto ogni giorno dalle 15.30 alle 18.30 degli open day in cui l'associazione resta aperta e le mamme possono ricevere consulenze gratuite sull'allattamento, consulenze per i natali, quindi fino ai tre anni di vita del bambino e consulenze sul portare in fascia, quindi sul baby wearing. Oggi pomeriggio avremo un laboratorio di letture e coccole, quindi fino a venerdì dove la settimana si concluderà con un laboratorio di coccole e letture e ci sarà sempre presente la nostra ostetica, la dottoressa Maria Rita Genovese che offrirà le sue consulenze gratuite sull'allattamento. Le mamme moderne, le mamme giovani, allattano i figli? C'è un vento di cambiamento su questo, per cui la promozione, gli eventi costanti e la promozione dell'allattamento materno sta determinando dei cambiamenti. Purtroppo nella regione Calabria non abbiamo numeri brillanti rispetto all'allattamento, questo vuol dire che tanto si può e si deve fare, per cui queste settimane, sostenute anche dalla regione, noi abbiamo aderito oltre che al MAMI anche alle iniziative realizzate dalla regione Calabria per il mese dell'allattamento materno, quindi tutto il mese di ottobre sarà dedicato al tema. L'obiettivo è quello di promuovere sempre più queste buone pratiche e sostenere soprattutto le mamme in maniera, le mamme ma soprattutto i genitori e la rete di sostegno che fa la differenza nell'avvio e nel mantenimento dell'allattamento. Quanto è importante il ruolo dell'ostetrica nel momento del parto e non solo? Allora il ruolo dell'ostetrica è una figura fondamentale non solo al momento del travaglio e del parto ma accompagna la donna nel tutto il percorso della gravidanza e subito dopo si approccia il quanto prima possibile appunto nel periodo del postpartum, quindi nell'immediato postpartum per avviare la donna a quel processo fisiologico che è l'allattamento al seno, quindi più precocemente noi ci approcciamo come ostetriche al sostegno della donna alla via dell'allattamento più soddisfacente ed efficace sarà questo momento di vita importantissimo. C'è comunque necessità di una formazione per le mamme che sono alla prima gravidanza? Sì, assolutamente, non solo le mamme alla prima gravidanza, c'è comunque necessità di una formazione che fondamentalmente prevede sostegno, prevede supporto perché ovviamente una donna si trova bombardata da miliardi di informazioni che le provengono dall'ambiente circostante, dalla riete familiare, dagli amici, anche da professionisti sanitari che non sempre riescono a formarsi ed aggiornarsi costantemente, quindi noi diciamo alle donne che ci siamo e le sosteniamo in ogni loro scelta perché allattare o non allattare è una scelta della donna, non può essere una scelta non fatta con consapevolezza appunto.